Benvenuti su NetTalk, il podcast dove esploriamo tutto ciò che riguarda la tecnologia, il software, internet e i pericoli della rete. Ogni settimana ci immergiamo nelle ultime novità del mondo digitale, discutiamo delle innovazioni più interessanti e sveliamo i rischi nascosti dietro la superficie scintillante del web. Dalle tendenze tech emergenti alle pratiche di sicurezza online, NetTalk è la tua guida definitiva nel vasto universo della rete. Riprendiamo discorso sull'isolamento giovanile e concentriamoci sulla dipendenza dai social media. Come dicevamo non si tratta solo di passare tanto tempo online, ma proprio di un bisogno, un bisogno compulsivo di controllare notifiche e aggiornare i profili e interagire virtualmente. Sì, è come se diventasse una droga. E la cosa che mi colpisce è che sempre più ragazzi ne sono dipendenti. Non è che dietro questa dipendenza si nascondano fragilità, insicurezze, problemi di relazione che trovano nei social, un rifugio apparentemente sicuro. Hai colto nel segno. La dipendenza da social è spesso la punta dell'iceberg. Eh già, un modo per anestetizzare la solitudine, la noia, l'ansia. Ma come ogni analgesico l'effetto è temporaneo e a lungo andare può essere dannoso. Perché in fondo i social non risolvono i problemi reali, anzi a volte li amplificano. Vero. Il confronto con vite apparentemente perfette, la ricerca costante di approvazione, la paura di essere esclusi, sono tutti elementi che possono alimentare ansia, depressione e bassa autostima. E poi non dimentichiamo il cyberbullismo, che sui social trova terreno fertile. Insulti, minacce, derisioni, tutto amplificato dalla viralità della rete. Un fenomeno che può avere conseguenze devastanti. Eh sì. Hai ragione. E poi c'è un altro aspetto da considerare. Chi si rifugia nei social rischia di trascurare le relazioni autentiche quelle fatte di incontri di sguardi di contatto fisico. Esattamente. Ci si chiude in una bolla virtuale perdendo di vista la bellezza e la complessità delle relazioni o male reali. Giusto, ma come si esce da questo cercolo vizioso? Bella domanda, non è facile. Ma un primo passo è la consapevolezza. Bisogna evitare i ragazzi a capire che il mondo virtuale non è la realtà. Che la felicità non si misura and like a follower. No. Che le relazioni autentiche sono quelle che nutrono davvero l'anima. Un compito importante per genitori ed educatori. Ma anche la scuola può fare la sua parte. Senza dubbio. La scuola dovrebbe essere un luogo dove i ragazzi imparano non solo nozioni ma anche competenze sociali ed emotive. Un luogo dove si impara a gestire le emozioni, a comunicare in modo efficace, a risolvere i conflitti in modo pacifico e anche a usare la tecnologia in modo responsabile e consapevole. Perché la tecnologia di per sé non è buona né cattiva. Esatto. È lo strumento che può essere usato per costruire o per distruggere. E noi adulti abbiamo la responsabilità di insegnare i ragazzi a usarla per costruire un futuro migliore. Un futuro dove la connessione umana sia autentica e profonda. Dentro e fuori dallo schermo. Un futuro dove i giovani possano esprimere il loro potenziale senza paura di essere giudicati, esclusi, bullizzati. Un futuro dove la diversità sia un valore e non un motivo di discriminazione. Un futuro dove i ragazzi possano crescere sereni, forti, consapevoli del proprio valore. Sì. È dove la solitudine sia solo un lontano ricordo. Per costruire questo futuro dobbiamo partire da noi stessi. Dobbiamo essere noi primi a dare l'esempio, a coltivare relazioni autentiche, a usare la tecnologia in modo responsabile, a promuovere un clima di rispetto e di inclusione. Perché in fondo tutti abbiamo bisogno di sentirci parte di qualcosa. Certo. Di una comunità, di un gruppo. Ecco. I ragazzi forse ne hanno ancora più bisogno. Hai ragione. Se riusciamo a creare un ambiente dove i ragazzi si sentono accolti, ascoltati, valorizzati, allora forse riusciremo a sconfiggere il mostro della solitudine. Un mostro che purtroppo si nutre di insicurezze, paure, fragilità, ma che può essere sconfitto con la forza della connessione umana, del dialogo, dell'empatia. E con la consapevolezza che la felicità non si trova in un like o in un follower, ma nelle relazioni vere, quelle che ci fanno sentire vivi, amati, compresi. Insomma, la ricetta per combattere l'isolamento giovanile è complessa, ma non impossibile. Richiede impegno, attenzione e ascolto da parte di tutti noi. Genitori, educatori, istituzioni, società civili. Ma soprattutto richiede la volontà di creare un mondo dove i ragazzi possono crescere sereni, forti e consapevoli del proprio valore. Un mondo dove la solitudine sia solo un brutto ricordo. E per farlo dobbiamo andare oltre la semplice constatazione del problema. Dobbiamo passare all'azione. Esatto, ma quali sono le azioni concrete che possiamo mettere in campo? Cosa possono fare i genitori, gli insegnanti, i ragazzi stessi per contrastare questo fenomeno? Nella prossima parte del nostro Deep Dive cercheremo di dare una risposta a queste domande. Ci concentreremo sulle soluzioni, sulle strategie, sugli strumenti che possono aiutarci a costruire un futuro più connesso e meno solitario per le nuove generazioni. Un futuro dove i social media, invece di alimentare l'isolamento, possono diventare strumenti di inclusione, di condivisione, di crescita. Resta con noi. Grazie per aver ascoltato NetTalk. Rimani sintonizzato per il prossimo episodio dove continueremo a esplorare il mondo affascinante della tecnologia, del software e dell'internet. Non dimenticare di seguirci sui nostri canali social e di iscriverti per ricevere tutte le ultime novità. Fino al prossimo episodio. Rimani connesso. Rimani sicuro.